segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te ipcc che lei dice d'aver letto per dimostrare cosa glielo dico se mi ascolti prego prego vada 1560 pagina dell'undicesimo rapporto r6 dove la dove è che è successo questo fa parte del problema impari un po di educazione prima di tutto facciamo fatica in quanto umanità in questo momento a riconoscere il lutto a elaborare il lutto che dobbiamo vivere nel fatto che la vita che abbiamo visto fino adesso non ce l'avremo ma vuoi ascoltare ogni tanto ogni tanto vuoi ascoltare gli altri che hanno studiato 50 anni vuoi a studiare nome e te ne vai perché non vuoi ascoltare calma perché ai cattivi maestri facciamo così allora posso dire questo prego prego però 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 va bene va però 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 devi anche devi anche riuscire ad ascoltare perché è una cosa importante è una cosa importante è una cosa importante è una cosa importante io vengo quando possiamo parlare di cos'è che ci sta bloccando in quanto in quanto tu vieni però tu devi lasciare che gli altri scrivono le loro opinioni ma quando ci sarà un dibattito interessante tu non puoi impedire a una persona di dire le loro opinioni la crisi climatica è stato terminato 20 anni fa è stato terminato 20 anni fa perché siamo qui siamo in emergenza guardi guardi no no ma io credo bene siamo stati noi a fare quelle immagini eh prego prego allora questo è la pagina 1560 del rapporto ipcc dove i vertici dell'ipcc che sono degli economisti